ciao ragazzi oggi vi spiegherò come funziona l'impianto di aspirazione aria di un'auto dunque quello che dirò vale per tutte le auto però in questo caso specifico parliamo di un auto turbo quindi ci sono in più la parte della turbina e dell'intercooler vediamo subito l'aria fresca arriva da qui lo so noi di solito parliamo di aspirare appunto aria fresca esterna e non quella calda del vano motore però questo impianto qui è concepito in questo modo dunque qui arriva l'aria fresca passa da questa parte qui nella quale c'è il filtro aria quindi viene filtrata arriva alla turbina che è questa qui la turbina non fa altro che aumentarne la velocità e la quantità che ne può essere aspirata questo ha come effetto collaterale purtroppo quello di riscaldare quest'aria per questo motivo dopo che è passata dalla turbina arriva all'intercooler che non è altro che un aria aria non vediamo e qua sotto e che significa che raffredda l'aria interna calda sfruttando la temperatura dell'aria esterna fresca una volta che l'aria si è raffreddata passa tramite un'altra turbazione che vediamo solo in questa parte qui arriva finalmente al motore partecipa alla combustione esce dal collettore di scarico e poi arriva alla marmitta